Rieccoci qui dal Salone del Risparmio 2019, sono in compagnia con Luca Giorgi di BlackRock, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, parliamo delle esigenze e delle modalità di diversificazione del portafoglio, che al di là dei macro temi che vediamo affrontati anche nell'edizione di quest'anno del Salone, come resta un mantra, soprattutto per un contesto macroeconomico non semplice da gestire? Sì, soprattutto in una fase finale del ciclo economico. Guardiamo il 2018, è stato un anno molto difficile, soprattutto l'ultimo trimestre per l'investimento azionario e i portafogli non diversificati hanno sofferto molto. È vero che veniamo da un trimestre positivo, sicuramente il sentiment è migliore rispetto all'anno scorso, però secondo BlackRock è fondamentale diversificare in maniera corretta, soprattutto i rischi azionari. Quindi ci piace andare a vedere un portafoglio non tanto con tradizionale equity, bond e cash, ma anche all'interno dell'equity diversificazione non solo geografica ma anche settoriale. Abbiamo fatto un sondaggio a inizio anno per chiedere ai consulenti italiani quali sono i driver della costruzione dei portafogli del futuro. No, qua parliamo di Next and Year Challenge, quali sono le sfide? Le principali ovviamente sono sfide normative e di mercato, ma come verranno costruiti i portafogli del futuro? Ecco, loro ci hanno detto che verranno costruiti con più efficienza, quindi con un costo minore, più diversificati, magari il resto vedremo come, e più sostenibili. Quindi sono un po' i temi del salone e riteniamo fondamentale però il concetto della diversificazione dei portafogli. Perfetto, diversificazione che diventa l'occasione per riunire comunque già i temi presenti. Ecco, rispetto proprio a dei settori di particolare interesse, voi avete una strategia particolare relativa all'health care, è corretto? Sì, corretto. Ci piace il settore dell'health care perché storicamente è stato un settore più difensivo. Se guardiamo nelle fasi di correzione perde molto meno rispetto agli altri settori, quindi non è un settore ciclico, è più difensivo. Ha una componente di tecnologia che può aiutarlo comunque a performare anche con i grandi trend di questo momento. Ovviamente si basa sul concetto della crescita demografica, ed è il trend principale che stiamo vedendo in questo momento sui mercati. Si parla molto del prossimo miliardo di popolazione che arriverà entro il 2030, ma soprattutto entro il 2050 un terzo della popolazione sarà una persona con oltre 60 anni. Quindi aumenterà tantissimo la spesa sanitaria, i servizi di health care. Se perdiamo il mercato americano si stiamo a una crescita sanitaria dell'8% all'anno, sono circa 3.400 miliardi. Poi con l'health care la tecnologia in questo settore permette di avere diagnosi immediate, quindi ci piace molto il tema dell'health care perché è più difensivo, valutazioni interessanti e legato ai trend demografici. Abbiamo un prodotto che si chiama BGF World Health Science e investe in quattro sottosettori. Il farmaceutico, che noi tutti conosciamo, i servizi sanitari, i dispositivi medici e il tema delle biotecnologie. In questo momento noi siamo sovrapposati soprattutto sul tema dei dispositivi medici. Come dicevo prima, siamo investiti in alcune società, ad esempio abbiamo appena sviluppato una società che lavora su un cerotto per considerare la glicemia, per andare a vedere durante la giornata come fare l'inserimento di insulina, oppure il tema dell'app e della diagnostica. Quindi un'app, si parla molto qua al salole del RoboAdvisor, quello che magari potrebbe essere il futuro. Ecco, in America c'è un'app che è stata sviluppata, che va a fare una diagnosi in meno di tre minuti, a circa 20 milioni di user, quindi non è proprio una cosa che da poco, e 95% soddisfatti. Con una serie di domande si può avere una diagnosi. ha un costo molto basso, però si evita di andare dal dottore, magari per le cose base si può avere anche una prescrizione medica. Quindi sicuramente la tecnologia sta entrando anche nel mondo dell'healthcare e può dare crescita a questo settore che ci piace, dove siamo positivi in questo contesto di mercato. Cercheremo di monitorarlo sempre di più anche noi, tra l'altro le fonti ha anche un focus con New Pharma, quindi anche noi lato editoriale lo stiamo assolutamente monitorando. Grazie ancora Luca Giardi per essere stato qui con noi, non mi resta che restituire la linea allo studio.